Nuovo anno scolastico, nuovi libri per tuo figlio. Caro libri, caro vi... Ma c'è la soluzione. Mercatone studentesco, terza edizione, a Milano. Sì, il Mercatone studentesco, terza edizione. Dove? Largo Cairoli, Angolo Via d'Azio. Quando? Dal 10 al 24 settembre. Dalle 14 alle 20. Vendi al 40. Compri al 50. Sei un genitore? Manda il tuo figlio al Mercatone studentesco. Cosa stai aspettando? Sei un figlio? Porta il papà o la mamma al Mercatone studentesco. Durante quei 10 giorni, attività gestite direttamente dagli studenti. Dibattiti, spettacoli. Babbling, bantti. Come sono andato? Mane? Ricaccio? Ricaccio.